Ciao, sono un'educatrice di Nido. Il Nido dove lavoro ha delle bellissime grandi vetrate che si affacciano sul giardino esterno e a volte durante la mattinata i bambini vanno lì, stanno con il naso appiccicato alla vetrata e guardano fuori. A loro non interessa se c'è il sole, piove, non interessa se è caldo, se è freddo, se è tiepido. Se fosse per loro andrebbero fuori, nel giardino dove sicuramente ci sono un sacco e mezzo di cose da sperimentare. Per me usciamo troppo poco fuori, usiamo troppo poco l'esterno e la ricchezza che il giardino ha.